Prodotti vegani, legumi e cereali è questo il bottino salutista che un 45enne americano stava per sottrarre da un supermercato milanese ma grazie all'intervento di un addetto alla sicurezza l'uomo è stato fermato in tempo e arrestato per rapina impropria. È successo al supermercato UNES di via Spallanzani domenica 29 agosto quando intorno alle 2 di pomeriggio l'uomo, un cittadino degli Stati Uniti originario del Kansas, si introduce nello store. Lì il ladro inizia a nascondere i prodotti alimentari sotto i vestiti, gelato vegano, ceci e altri alimenti salutisti per un valore di circa 15 euro ma è proprio in quel momento che un addetto alla sicurezza si accorge di quello che stava accadendo e dando subito l'allarme cerca di fermarlo. Tra i due inizia una piccola collutazione, l'uomo infatti cerca in tutti i modi di vincolarsi dalla presa del vigilante che invece riesce a resistere fino all'arrivo dei poliziotti. Così gli agenti dell'ufficio prevenzione, una volta arrivati sul posto, immobilizzano l'americano per poi arrestarlo con il reato di rapina impropria.